e farli raccontare un po' del loro lavoro. Allora parto subito da Luca, che come vedete lì c'è la presentazione e il titolo del suo progetto, riguarda l'obesità e il cancro. Noi sappiamo che l'obesità favorisce il cancro, ma la tua ricerca cos'ha di così particolare e di diverso? Dove punta? La domanda di per sé non è una domanda particolarmente originale, che se volete la rende particolarmente originale, perché è una domanda che in molti si sono posti ultimamente, vista l'epidemia di obesità che c'è, ma che nessuno secondo noi si sta ponendo in una certa maniera. Siccome in ricerca la cosa principale da fare è proprio porsi la domanda giusta, pensiamo che stiamo cominciando a porci questa domanda in una maniera un po' più particolareggiata, cioè stiamo cercando di vedere se l'obesità ha un'attività diretta sulla stabilità del genoma e se volete la parte un po' più originale di questa ricerca è il metodo che vogliamo utilizzare per stabilire la veridicità di questa ipotesi, che è basata sull'utilizzo di tecniche di ultima generazione di sequenziamento applicate alle proprietà delle cellule staminali che ci possono dare l'identità genomica di singole cellule all'interno di ogni organismo. Vogliamo vedere utilizzando questa tecnica se l'obesità, in un modello ovviamente di topo, se effettivamente porta ad un accumulo più veloce di mutazioni rispetto ad una dieta normale. Bravo a spiegarlo in maniera così semplice. Allora, tu hai una caratteristica particolare perché sei medico e ricercatore, è vero? È vero, è vero, assolutamente vero. Ma è più bello fare il medico o fare il ricercatore? Beh, per quanto mi riguarda è bello fare il medico ricercatore, perché è una figura che in Italia non è ancora così diffusa, è molto più diffusa in altri paesi, in America è quasi la norma, e secondo me è una figura che nel panorama medico scientifico italiano farebbe la differenza, perché fondamentalmente noi siamo delle figure un po' a metà strada, fra il medico che è occupato tantissimo, se volete oggigiorno anche troppo, da aspetti amministrativi non necessariamente legati alla salute dei pazienti, e i ricercatori che invece alle volte rimangono forse troppo focalizzati su specifici problemi molto particolareggiati, delle piccole isolette di ricerca che magari invece viste da un contesto più ampio acquisiscono un valore maggiore per la società. E riesci a conciliare bene questi due aspetti? Eh conciliare sicuramente non è facile, perché significa fare due lavori al prezzo di uno diciamo, però allo stipendio di uno soprattutto. Beh adesso arriva il grant, dai. Eh sì, intanto i soldi non arrivano a me fondamentalmente, quindi lo stipendio rimane sempre lo stesso. Beh sì, comunque sì, poi io ho una famiglia bellissima con mia moglie che è qui. Dove è tua moglie? Sara, giusto? Eccola laggiù. E a casa avete lasciato Nina? Un anno e mezzo? Esatto, abbiamo lasciato Nina, una bambina di un anno e mezzo che è la nostra gioia, noi siamo tutti e due assolutamente innamoratissimi. È una bimba che sta prendendo, sta crescendo, sta prendendo un po' gli aspetti del papà e quindi sta imparando i numeri, le cosine, gli stiamo insegnando i colori, insomma le cose un po' più scientifiche se vogliamo che parli così. È mia moglie che è architetto e quindi le piace un sacco disegnare, le piace ballare, le piace, insomma molto canterini in famiglia, ci piace molto la musica in tutti i suoi aspetti e quindi il nostro figlio sta prendendo su come una bimba molto musicale diciamo. Allora grazie per il momento, resta qui insieme a noi perché che tra poco ti premeremo. Avvicinati Luca, qui un po' in mezzo, ecco, dobbiamo fare le foto, scusate, della premiazione, ecco. È come a Sanremo, però qui è meglio, però tu sei un po' cantico e tua figlia, quindi sei avvantaggiato. Grazie, passiamo. Grazie. Grazie. Grazie.